Beh sì, evidentemente è una decisione non semplice che divide le posizioni in municipio, soprattutto per il fatto che fra 20 giorni non sappiamo l'utilizzo che dobbiamo dare a questo edificio. Quindi una votazione tirata, ma il fatto di dare 20 giorni di tempo può significare ancora una possibilità che si rimetta un po' in moto un compromesso, un modo per rinviare ulteriormente, per ritrovare il dialogo? O per cercarlo? Perché fino adesso... Ma io spero di sì, nel senso che non trovo sia il sistema giusto di farlo, nel senso che avrei preferito una disdetta a lungo termine, visto che abbiamo un progetto adesso scaturito da un concorso e ci sarebbe stato tutto il tempo di fare una mediazione così a corto termine, è un po' difficile. Al di là di questo, cosa è sbagliato in questa decisione? È sbagliato quello di correlare una manifestazione che è degenerata e che avrà i suoi risvolti legati anche al Ministero pubblico con una realtà che esiste da 20 anni sul territorio, forse anche un po' discutibile, ma che comunque esiste e ha un suo entourage. Perché in Ticino, Lugano, sembra quasi impossibile poter realizzare qualcosa che è stato realizzato comunque, certo, fra tensioni, polemiche, eccetera, in altre città svizzere e molto tempo fa? Ma probabilmente il clima politico è completamente diverso. La città di Lugano è l'unica città svizzera che non ha una maggioranza rosso-verde nell'esecutivo e questo si capisce anche nell'approccio di queste problematiche. Senta, perché il Municipio non ha chiesto al Cantone di tentare a sua volta una mediazione, visto che era confirmatario della Convenzione? Ma in realtà è stato fatto un po' timidamente e non sono arrivati grandi segnali nemmeno da Bellinzona. Però troppo timidamente? Molto timidamente, sì. Quindi era quasi, come dire, scontato che non ci fosse una reazione molto positiva. Ma bisogna anche dire che anche il Governo è cambiato in questi 20 anni. Mancano delle figure come quelle che c'erano 20 anni fa, come Pietro Martinelli e Luigi Pedrazzini. Quindi il fatto che Gobbi, diciamo, diriga il Dipartimento Deputato, secondo lei complica le cose? Beh, è anche questo un fattore, sicuramente. Senta, dialogo, no? Parliamo di questo. Diciamo che entrambe le parti ritengono che l'altra non voglia dialogare. I Molinari in particolare dicono ma che dialogo sarebbe se dobbiamo andare a discutere mentre non è stata ancora individuata nemmeno un'ipotesi di alternativa rispetto al luogo dove siamo? Beh, sì, si può anche comprendere. D'altra parte anche loro non mostrano grandi aperture perché continuano a insistere e dire noi qua siamo, noi qua restiamo. Per poter dire noi qua siamo, noi qua restiamo forse bisognerebbe anche adeguarsi a un minimo di regole. Però se ci fosse proprio concretamente una prospettiva o un paio di prospettive alternative forse anche questo atteggiamento potrebbe ammorbidirsi? Beh, sì, probabilmente sì, ma ci vuole innanzitutto come si diceva già prima, un dialogo. Bisognerebbe trovarla anche assieme, una soluzione, trovare anche assieme delle nuove regole da formalizzare in una nuova convenzione. 19 anni fa si condusse un dialogo, certo in altre condizioni, anche politica, come lei sottolineava, con altri protagonisti, come ho già detto. Tuttavia l'impressione allora è che non fosse mai abbandonato il messaggio chiaro. Andrete fuori da dove siete, ma ci sarà un'alternativa. Addirittura fu più interessante per il movimento ritrovarsi nel centro urbano che non nella periferia. Beh, certamente questo tipo di movimenti evidentemente hanno una volontà anche di restare in un contesto più urbano, lo si vede anche nelle città oltre Alpe e quindi sorge anche la difficoltà di trovare veramente una sede alternativa. Io sono convinta che si potrebbe studiare. L'avete cercata? Per esempio il vostro gruppo, eccetera, ha fatto delle proposte concrete? Io non faccio parte di questo gruppo e stanno cercando delle soluzioni. No, ma politicamente, politicamente, voi. Ah, noi come gruppo, non è evidente. Non mi sembra che abbiate fatto delle proposte. D'accordo, però Martino Rossi dieci anni fa in un consiglio comunale tematico su questo tema aveva addirittura suggerito di concedere il Palazzo dei Congressi attuali visto che prevediamo di farne uno nuovo al Campo Marzio in modo tale... Diciamo un po' polemicamente e ironicamente, no? Ma perché no? Però, non so, individuare due soluzioni da parte vostra e dire guardate, queste due soluzioni potrebbero essere uno sbocco? Questo non è stato fatto obiettivamente. Non è stato fatto anche perché bisogna nel contempo discutere le modalità di azione anche perché abbiamo anche dei problemi di vicinato non possiamo negarlo e quindi se proponiamo delle soluzioni alternative bisogna anche proporre dei luoghi dove non ci siano i disturbi che si arrecano al vicinato quindi nessuno vuole quindi il problema è che trovare delle soluzioni noi come città non abbiamo grandissimi sedili da proporre. Ma non è stato individuato niente? Questa è la sostanza? Ci sono dei potenziali luoghi ma non si vuole nemmeno dirli proprio per non avere subito delle reazioni. Ok. A questo punto cosa può accadere? Perché sembra proprio che in qualche modo si... voglio dire si sia cercato lo scontro ma si va inevitabilmente contro lo scontro o si è voluto cercarlo? E chi lo sa nel senso che la maggioranza appunto ritiene che la violenza che si è proposta in questa manifestazione dell'8 marzo fa chiudere questa esperienza e c'è anche una grossa chiusura nei confronti però secondo me resta sul tavolo il problema della politica giovanile in generale. Abbiamo i nostri figli tutto il giorno davanti al computer perché non possono fare nemmeno le lezioni fisicamente abbiamo assembramenti ovunque perché i ragazzi non sanno dove andare ci mancava solo questo per completare il quadro per la frustrazione che hanno i ragazzi e secondo me in generale bisogna fare molto di più a livello di politica giovanile. Ma lei è preoccupata a medio termine a breve termine per quello che potrà accadere? Sì, sono sinceramente preoccupata. Cosa accadrà? Ma se non ci sarà una volontà di riaprire il dialogo da ambo le parti ma in modo con una comprensione reciproca perché come loro non comunicano o comunicano in modo strano anche il municipio deve comprendere che questa realtà ha un suo modo di comunicare diverso che è molto meno istituzionale rispetto ad altre realtà però non lo so che cosa potrà accadere nel senso che il municipio è abbastanza prevedibile cosa vuole fare per invece il centro sociale del Molino non si sa so che hanno indetto un'assemblea sabato e quindi vedremo cosa scattiverà. Dunque, ufficializzare una richiesta al cantone di attivarsi? Ma sicuramente si potrà fare perché noi questa disdetta la intimiamo anche al Consiglio di Stato. Ma secondo lei la disdetta può essere annullata dal cantone visto che è cofirmatario della Convenzione? Ah beh, qui si pongono tutta una serie di temi giuridici aperti perché sicuramente ci saranno diversi motivi che possono invalidare questa disdetta.